Questo programma vi è offerto da Confartigianato Udine Servizi SRL Buonasera, bentrovati a Meteo Weekend in una giornata di sole con una bella temperatura, oggi piacevole il clima piuttosto secco cosa ci aspetterà nei prossimi giorni? Naturalmente lo vedremo dopo nella pagina dedicata alle previsioni del tempo però possiamo dare un'occhiata a quello che intanto accade oggi Ecco la cartina con il cielo sereno che prevale su tutto il nord Italia da est a ovest qualche addensamento modesto sui rilievi alpini e appenninici bisogna scendere più a sud per trovare dell'instabilità ancora legata ad una depressione che si trova ormai più lontana tra i Balcani e la Grecia che coinvolge così un po' marginalmente ma con un po' di instabilità il nostro sud Italia per il resto sole, temperature che si sono portate fino a 28 gradi per questo diciamo temperatura piacevole 28 gradi, 25 lungo la costa andiamo pure a vedere il profilo perché è interessante vedere il profilo verticale dell'aria oggi un profilo di chiara stabilità atmosferica sia perché la temperatura di ruggiata sono molto distanziate fra loro un po' a tutte le quote e anche perché come vedete gli indici relativi alla convezione il cape e il lift da un po' ne parlo ogni tanto visto che siamo in estate sono pari a zero il cape e il lift è positivo di quasi 5 quindi il cape dovrebbe essere molto più alto per avere rischio temporale rischio assolutamente zero vi faccio vedere un'altra carta che è relativa alla temperatura all'anomalia termica del mare della superficie del mare guardate un po' il Mediterraneo come è caldo e soprattutto come è caldo l'Adriatico la zona in assoluto più calda è l'Adriatico e in particolare proprio l'Alto Adriatico nella zona che ci interessa più freddo della norma solo il mare nei pressi di Gibilterra da noi fino anche a 4-5 gradi sopra i valori medi quindi è un dato importante che dimostra quanto ormai faccia caldo praticamente dalla seconda decada di aprile e ci siano stati campi livellati che hanno prodotto poco rimescolamento delle acque quindi insomma sole, caldo e poco rimescolamento portano a questa situazione però io direi che possiamo andare a vedere il video che ci introduce all'argomento di questa sera grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Bene, buonasera a tutti. Grazie Marco per questo incipit, tranne l'aspetto legato all'età. Sono da vent'anni che abbiamo iniziato questo percorso di scoperta del nostro territorio. Erano gli anni 90, fino a quel periodo c'erano dei gruppi organizzati soprattutto per l'escursionismo alpino, gruppi dei CAI che facevano delle escursioni diciamo classiche dedicate a mete, cime e quant'altro. Nel contempo nasceva anche nella nostra regione, veniva istituito le riserve naturali, i parchi, c'era una legge. Quindi cominciava a sensibilizzarsi quello spirito naturalistico di scoperta, di valorizzazione del nostro territorio dal punto di vista delle sue valenze ambientali. Allora abbiamo deciso proprio alla fine degli anni 90 di iniziare a fare delle camminate per condividere tutto questo in compagnia. E per dare all'escursione non più una connotazione di raggiungimento di una meta o comunque fine a se stessa, ma di scoperta in cammino di tutte le valenze, tutte le particolarità di un territorio con l'aiuto di esperti in geologia, in botanica, faunisti eccetera eccetera. E quindi abbiamo iniziato ad approfondire le nostre camminate, inoltrandoci in un friuli che veramente dava molto. Eravamo proprio i primi siamo stati a fare questo tipo di percorso. Poi col tempo abbiamo iniziato ad avventurarci sempre più a fondo sul territorio. Mi piace l'idea che hai dato all'inizio di escursioni proprio profonde nella natura. C'è un'immersione proprio davvero a contatto con l'ambiente naturale. Però anche un po', scusa se ti interrompo, un po' anche in realtà con la storia, no? A volte con le curiosità legate proprio anche alle zone di cui si trova. Sì, la cosa fondamentale è che noi all'escursione leghiamo la conoscenza. Quindi leghiamo la conoscenza appunto delle specie botaniche, ma non come esercizio così di fine a se stesso. Ma è proprio perché nella conoscenza delle cose sta la percezione del piacere, della felicità di fare una cosa assieme e arrivare a casa la sera con un bagaglio arricchito di nozioni. Poi magari una volta che ti ritrovi da solo in qualche modo dire, oh questo lo riconosco perché quella volta... Questa è la nostra filosofia, è sempre stata quella di condividere la conoscenza del nostro ambiente naturale. Ecco, poi ovviamente come vediamo qui... La socialità. Sì, stanno scorrendo le immagini della mostra che abbiamo adesso al Parco delle Prialpi Giulie, scoprire appunto camminando il Parco delle Prialpi Giulie. Ovviamente c'è attorno a questo poi un momento di socialità, un momento di allegria anche. E poi anche sapere superare tutti i tipi di condizioni atmosferiche, qui abbiamo discussioni con la pioggia in tutte le stagioni. Quindi abbiamo imparato poi ad apprezzare la camminata in tutte le condizioni, in tutti i tempi. E poi ci siamo spinti, come in questo caso qua siamo sui Nockberger in Austria, siamo spinti anche fuori dal nostro territorio. E poi abbiamo cominciato a spaziare alla scoperta della natura nei territori attorno. Non solo a piedi, qualcosa anche in bicicletta ovviamente. Sfruttiamo tutte le escursioni. Ecco, diciamo tutte escursioni che comunque hanno dietro una buona preparazione prima di andare insieme. Allora, diciamo che c'è ormai la conoscenza acquisita del nostro territorio da parte mia, perché sono da vent'anni che faccio questa cosa, quindi conosco bene i luoghi. Però devo dire il vero, mi piace tante volte, anche a me, avventurarmi e scoprire assieme ai miei amici che vengono, territori nuovi. Mi piace molto provare la sensazione della scoperta. Ci sono ancora sorprese in Friuli? Ci sono molte sorprese, anzi, io sono anche un po', sotto questo profilo sono un po' anche, diciamo, avvilito. Non riuscirò mai a finirlo a scoprire tutto, non ho abbastanza anni di tempo. Io mi auguro altri vent'anni di scoprire camminando, ma non basteranno ancora. Per entrare proprio in tutti i dettagli della nostra regione. Ecco, Massimo, qua vediamo, qui c'è anche la vostra associazione. Abbiamo iniziato a vedere delle immagini del gruppo, chi sono questi partecipanti? Ormai ci sono dei partecipanti fedelissimi, amici, gruppi che cambiano. Come è la composizione di questi vostri amici con cui camminate? Ovviamente in vent'anni c'è stato un bel ricambio. Ci sono i fedelissimi, poi ovviamente noi scegliamo gli itinerari per favorire una partecipazione più varia possibile, quindi per famiglie, adulti, anziani, eccetera, quindi anche come grado di difficoltà piuttosto basso. E scegliere comunque itinerari che possano favorire quello che diceva prima anche Alberto, cioè un approccio multidisciplinare al territorio. Quindi non solo dal punto di vista naturalistico, botanico, geologico, ma anche spesso approfondendo gli aspetti storici, etnografici del luogo e anche qualche volta proprio anche il gusto, quindi spesso ci capita di andare ad assaggiare i prodotti della terra, ad esempio guida l'assaggio nell'azienda di vitivinicole, con ristoratori, eccetera, anche per una ricaduta, diciamo così, economica sul territorio. Insomma anche io ho partecipato un paio di volte a delle uscite, a volte anche d'inverno, poi insomma è sempre finito con un ottimo momento conviviale. Ci manca il nostro cavallo di battaglia. Un po' per tutti, un po' in tutte le cose, è giusto finire in gloria. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ma iniziamo subito dopo con le previsioni del tempo. Ed eccoci qua pronti ad esaminare la situazione atmosferica per i prossimi giorni, direi per parecchi giorni, con la possibilità di, abbastanza ormai fondata, di avere diverse giornate con il sole e con il caldo. Ecco qui la situazione che ci mostra la cartina con l'alta pressione atlantica che già si espande verso est. Noi siamo interessati da correnti deboli, orientali, secche, come abbiamo visto, che danno già stabilità un po' più umide in quota e questo spiega qualche addensamento, ma niente di che. Beh, nei prossimi giorni l'anticiclone sarà sempre più protagonista e anche tutta la prossima settimana rischia di essere completamente sotto il segno dell'alta pressione con aria sempre più calda in quota che porterà le temperature molto in alto anche al suolo. Andiamo allora a dare un'occhiata intanto alla giornata di domani. Una bella giornata con il cielo che sarà tra sereno, poco nuvoloso in pianura, tra poco nuvoloso e irregolarmente nuvoloso sui rilievi per qualche addensamento pomeridiano. Anche in questo caso non importante, ma le temperature già saliranno fino ai 31 gradi in pianura con venti che saranno deboli di direzione nord-est. Anzi, questo fattore potrebbe favorire un rialzo anche sulla costa un po' più sostenuto. Andiamo pure a vedere la domenica. Ancora bel tempo, non sono in vista precipitazioni di alcun tipo, neanche gli isolati rovesci classici. Invece abbiamo qualche nuvolamento qua e là, soprattutto nel pomeriggio, soprattutto presso i rilievi. Le temperature, come vedete, passetto dopo passetto salgono ancora. Ci portiamo intorno ai 32 gradi in pianura, quindi giornata calda. I venti tendono a divenire variabili, resteranno probabilmente orientali sulla provincia di Trieste. Andiamo pure alla situazione in Italia. Qui vediamo ancora, nella giornata di sabato, per chi dovesse fare qualche giretto nei prossimi giorni, vedete tra Sicilia e Meridione un po' di instabilità pomeridiana. Al nord, solo ed esclusivamente sui rilievi di confine delle Alpi più occidentali. Per il resto, bel tempo e basso rischio di precipitazioni. La domenica, non molto diversa, con una situazione che non cambia tanto. C'è sempre questa instabilità al sud per dei venti settentrionali che lì sono un pochino più umidi e danno luogo nell'Europa Meridiana a qualche rovescio, a qualche temporale. Per il resto, bel tempo e per quanto riguarda il nord-est, assolutamente la prevalenza del sole. E siamo al mare. Qui vediamo dei venti che sono variabili, comunque settentrionali, tendenzialmente da nord-est, sulle nostre zone sabato, però il mare è poco mosso, con una prevalenza della direzione delle onde marine da nord-est verso sud-ovest. Alta la radiazione ultravioletta che oscillea tra i 7 e gli 11 come indice, a seconda del minore o maggior soleggiamento. Vediamo pure la domenica, e qui vediamo poche differenze, come intensificarsi a tratti dei venti in prossimità delle coste occidentali dell'Istria, ma per il resto, insomma, venti variabili, generalmente deboli, mare poco mosso. Ci interessa invece l'evoluzione successiva. Vi ho detto prima che probabilmente il tempo rimarrà stabile per molti giorni ancora, e qui siamo a mercoledì, vediamo l'anticiclone delle Azzorre, con i suoi massimi proprio sulle isole Azzorre, però che si estende verso est, quasi zonale, diciamo, e comprende anche il nord Italia, con la sua azione al suolo, ma anche in quota. Questa situazione dovrebbe perdurare, con aria che si scalderà, tra l'altro ci dovrebbero essere dei massimi a nord delle Alpi, che potrebbero favorire un po' di compressione, quindi rialzo ulteriore delle temperature. Cominciamo a vedere gli scenari di lungo termine, che almeno fino al giorno 22 parlano solo di stabilità e di temperature ben sopra la media, come vedete qui la temperatura in quota, quella linea rossa è la media, questi sono i fasci di scenari previsti, niente piogge fino al 22, poi qui vediamo una tendenza alla diminuzione e anche un ritorno di qualche pioggia, però devo dire con gli scenari che diventano poco affidabili, perché si allontanano molto fra loro, ci sono grandi differenze tra le varie proiezioni, per cui non possiamo dire che succederà questo, dobbiamo solo attendere, vedere se ci sarà un effettivo cambio verso il 23, oppure se avrà ancora intenzione di continuare con questo sopra media prolungato il tempo. Andiamo a vedere i nostri scenari per chiudere, i nostri riepiloghi, lunedì, martedì, mercoledì, cielo sereno, poco nuvoloso, forse solo lunedì qualche addensamento in più in montagna, e qualche isolato fenomeno, ma dubito anche che ci potrà essere quello, per il resto sole, sereno in pianura, poco nuvoloso in montagna, temperature che stanno sui 32, poi mercoledì già potrebbero portarsi ai 33 gradi nei valori massimi. Ulteriore scaldata nel resto della settimana, con lo zero che si porta prossimo ai 4000 metri, o li raggiunge, e al suolo, vedete con un cielo sereno, poco nuvoloso, vedete le temperature fino a 34 gradi, che dovrebbero durare per giorni, e forse toccare anche i 35 nell'arco del fine settimana. Staremo a vedere, domenica l'ipotesi, un po' remota di qualche locale rovescio in montagna, come vi ho detto, gli spaghetti sembrano abbastanza concordi fino a questa fase qua, poi naturalmente ci aggiorneremo, come facciamo sempre, a partire da lunedì con ore 7, perché ovviamente la situazione va a seguire la giornata, vedremo poi che cosa realmente potrà accadere. Torniamo invece a parlare con i nostri ospiti, questa volta con Massimo Wallent, parliamo delle cascate di Crosis, perché c'è anche un interesse geologico che poi magari tu esporrai ancora meglio andando avanti col discorso. E un po' queste cascate oggi seguono il nostro racconto, di cosa stiamo parlando? Cenni storici poi anche sull'impianto, sul sito, perché è un impianto di produzione della corrente. Sì, certamente. Ecco, la cascata di Crosis è una cascata artificiale, perché venne realizzata proprio contestualmente all'impianto. e il sentiero della cascata di Crosis consente di ammirare un po' l'ambito naturalistico di questa zona e si snoda sulla sponda destra del torrentettore e attraversa quindi un ambiente umido di forra, ecco qui vediamo le cascate, in una zona estremamente particolare, fino ad arrivare alla base di quella che è appunto la diga di Crosis e la cascata. È un impianto che venne realizzato, ideato, progettato da Arturo Malignani nei primissimi anni del Novecento. Ecco, questa è la situazione antediga, vedete quanto stretta era la forra attraverso la quale passava il torrentettore. Ecco, in quella zona lì Arturo Malignani decise di realizzare lo sbarramento, uno sbarramento a doppio arco, con un'altezza di circa 38 metri, che già per l'epoca era uno sbarramento piuttosto importante, se non altro perché era uno dei primi che impiegava appunto il cemento e proprio con il cemento Arturo Malignani aveva iniziato a fare degli esperimenti proprio per confezionare la miscela giusta e più idonea proprio anche per durare nel tempo. Un'altra particolarità è il fatto che ovviamente si formò questo laghetto che vediamo alle spalle della diga, un laghetto che venne anche sfruttato, vedete, per scopi anche turistici, quindi con le barche, i bagnanti, eccetera. E un'altra particolarità è che Malignani non solo si preoccupò di realizzare questo tipo di impianto per poi produrre energia elettrica, ma anche lo mascherò. Cioè, quella volta il discorso sull'impatto ambientale non era così come oggi, no? Però la sua preoccupazione fu proprio quello di mascherarlo il più possibile e di fatti venne rivestito tutto il paramento verso valle della diga con pietra locale. E di fatti gli scalpellini estraevano la pietra, ecco vedete, proprio il paramento della diga che è completamente rivestito in pietra e gli scalpellini la lavoravano nello spiazzo che sta sopra. Quindi un'attenzione importante. Molto importante che ci ha restituito un'opera che è proprio un'opera di archeologia industriale per l'epoca e che appunto poi dopo venne acquistata dal cascamificio di seta che vedete raffigurato lì, che sta appunto nella zona di Bulfons, dove venne anche realizzata la centrale idroelettrica proprio per la produzione di energia elettrica. Energia elettrica che quella volta Malignani aveva immaginato e che poi venne effettivamente adoperata per quello, per l'elettrificazione della linea tramviaria prima di Udine e poi del cosiddetto tram bianco, quello che partiva da Udine e poi dopo saliva su verso Tricesimo prima e poi dopo fino a 300. Quindi diciamo un discorso in prospettiva piuttosto importante. Dopo aver ceduto la diga al cascamificio, Arturo Malignani ne costruì un'altra, ancora più potente da un punto di vista proprio di capacità e di salto eccetera, che è quella di Vedronza, che venne realizzata in località Pradielis o Sbaramento e dopo da lì venne costruita una condotta di aduzione giù fino all'abitato di Vedronza, dove venne realizzata proprio questa centrale idroelettrica piuttosto importante, con una buona produzione di energia elettrica e che venne dismessa solo più o meno nel 1976 e che adesso è stata ripristinata proprio con un progetto piuttosto importante dal comune di Lusevera. Insomma una zona anche interessante dal punto di vista naturalistico, perché quando usciamo da Vedronza il torrente scende, si stringe questa forra e quando si passa dalla strada dove c'è in zona Bivio con Villanova si vede molto molto profondo, in un ambito angusto, solco. Certo, è anche abbastanza pericoloso, molto affascinante a percorrerlo proprio là sotto e che comunque riserva ancora delle sorprese, di fatto lì ci sono proprio anche dei limi lacustri che risalgono proprio nella forra ad un antico sbarramento di una frana che proprio crollò e sbarò il torre. Ecco il sentiero è percorribile, segnalato allo stesso tempo. Allora il sentiero sì, è percorribile, venne attrezzato nel 98 con un progetto con fondi europei, con ingegnere naturalistico, ovviamente il tempo fa il suo corso, purtroppo certe opere in legname sono andate un po' rovinate e però adesso c'è l'idea proprio di ripristinarle con un nuovo progetto che consenta una frizione un po' più semplice di questo ambito che comunque essendo un ambito di forra percorrerlo non è proprio sempre, in cui ha bisogno di qualche attrezzatura per poterlo, diciamo, fruire in maniera sicura. Più sicura possibile, cioè di godersi l'ambiente. Ecco, si è parlato di Arturo Malignani, Alberto Candolini, c'era un turismo, no? I fine Ottocento nella zona del Tarcentino, la perla del Friuli. Sì, Arturo Malignani era molto legato alla sua famiglia a Tarcento, avevano anche una bella casa su uno dei colli più belli sopra il paese. Poco fa è scorsa anche un'immagine dove si vedeva un nevaio, quello lì in Alta Valtorre, quindi siamo all'inizio del Novecento, è cambiato il clima, al tempo non c'era la strada che c'è adesso, ma si saliva in Alta Valtorre per una vecchia mulattera e Malignani faceva queste, con cui vediamo l'immagine dell'inventore, faceva qui invece appunto la vecchia centrale di Vedronza, faceva delle escursioni con la famiglia, proprio dotati di Alpe, Stocca e Salivano, da avventurieri, perché era poco noto ancora a livello così turistico l'Alta Valtorre, e con la macchina fotografica ha scattato una delle prime foto, scattava tra le prime foto dell'Alta Valtorre, Così prossima e così sconosciuta. Sì, sì, così sconosciuta, quella volta era veramente molto, e questo richiamava tra l'altro questo suo impegno, curiosità, anche altra gente, per cui Tarcento veniva frequentata decisamente. Si è mosso, un certo turismo. E anche scoprire camminando nasce a Tarcento non a caso. Non a caso, non a caso, pionieri nel camminare non scoprì. Allora, ecco, mentre vediamo queste ultime foto, ci fermiamo di nuovo per la pubblicità, ma ancora tante cose interessanti, dopo, tra poco, tra pochi minuti. Abbiamo parlato un po' del passato, abbiamo visto come addirittura con Arturo Malignani si era creato un certo giro turistico tra Tarcento e l'Alta Valtorre. E allora con Alberto Candolini parliamo invece dei tempi nostri. scoprire camminando questa estate quali intenzioni ha, nel senso, cosa proponiamo anche a chi ci sta ascoltando, cosa proponete, quali itinerari sono in vista nei prossimi mesi col caldo che fa, tempo stabile, mi pare che ci sia modo di muoversi. Prendendo spunto dalle tue previsioni che abbiamo visto porteranno un'estate che inizia già con... Il botto. Il botto. Diciamo che ci orientiamo, come tutte le state passate, alla parte alta della nostra regione, quindi soprattutto proposte di montagna, proposte al fresco delle faggette, proposte dedicate alla scoperta del territorio, quindi montano. Quest'estate però punteremo particolarmente l'attenzione sui bambini, sulle famiglie. Perché? Perché riteniamo che sia fondamentale far conoscere la natura ai più giovani, per fargli innamorare al nostro territorio, per fargli scoprire la bellezza del vivere lontani dalle trappole tecnologiche, poter ancora vivere un'estate spensierata, ma allo stesso tempo un'estate dove possono conoscere alcune cose che li potranno servire in futuro, come dove ci sono acque buone da bere, e dove quali piante si possono utilizzare per... Questo è interessante, sorgenti dove si può bere. Sì, dove si può bere. Qui vediamo animali innocui o animali pericolosi, poi piante rare, uniche che stanno scomparendo anche a causa dei cambiamenti climatici. Insomma, sensibilizzarli al mondo della natura con un approccio di gioco, di divertimento, ma comunque sempre puntando all'aspetto non dico scientifico perché mi sembra un po' una parolona, però insomma l'aspetto della conoscenza vera delle cose. Di avvicinamento, se vogliamo. Sì, esatto. Coinvolgere in attività, qui siamo per esempio a prendere sull'aglio Aresia, e in attività anche pratiche, portarli nei luoghi più belli, cioè l'estate sarà tutta la volta insomma alla riscoperta di luoghi che per loro è la prima volta e quindi con grande piacere mi piace introdurli a questo magnifico mondo, farlo con serenità, senza l'ansia del dovere arrivare da qualche parte. Guarda, ecco, qua ti fermo perché questo è un concetto che mi piace molto, intanto vediamo, un copricapo molto naturale, rinfrescante, rinfrescante, ma mi piace il concetto, tra l'altro se in certe tribù aborigine c'era il concetto del camminare per camminare, cioè tu vai, vaghi in ambiente bello, non necessariamente devo arrivare là, che a volte questo è un limite, no? Esatto. Ecco. E poi i momenti, qui abbiamo l'accensione dei fuochi sostiziali, visitare all'interno, qui siamo alla miniera del Res Artico, cioè fare delle cose che poi restano nella, ti restano nella, cioè che l'estate sia per loro un momento di svago è veramente unico e anche di arricchimento. Ma le uscite sono settimanali? Sì, ne faremo durante la settimana anche sì sì, perché per fortuna il mio lavoro me lo consente, per cui riesco a proporre anche qualche uscita settimanale, non che, come sempre, la domenica è il nostro punto di riferimento perché le famiglie sono più libere. Un morimus. In ogni caso, sì, questo qua, morimus ponerosum. Sì, fargli vedere anche gli animali che sono in via di, cos'è, vuol dire essere in una lista rossa di specie a rischio estinzione, perché, cosa vuol dire tutelare un habitat, qual è l'importanza, insomma, della nostra azione, della buone pratica di sostenibilità e via dicendo. Fargli fare piccole cose, lavoretti con le cose trovate nella natura, anche per la manualità. Le esperienze precedenti mi pare sono andate bene, no? Sì, poi c'è il geologo, qui ovviamente si farà della geologia, i fossili sono sempre una cosa che piace tantissimo, non stanca mai, perché veramente conoscere, leggere il libro di storia della nostra pianeta attraverso i fossili è sempre una cosa emozionante, ma emoziona ancora, non mi stuferà mai, e penso che per i bambini sia un buon inizio anche quello, E giocare, insomma, fare cose nella natura che siano lontane dagli schemi quotidiani. Allora, ecco l'invito proprio a queste attività, ma abbiamo parlato del geologo, e il geologo adesso ci racconta qualcosa di più sul sentiero delle cascate di Crosis, perché hanno un interesse, l'abbiamo visto dalla forra, ma c'è un interesse anche geologico importante. Tra l'altro la puntata scorsa abbiamo parlato delle cascate del Friuli Venezia Giulia, quelle naturali, ma si è vista a tratti anche quella di Crosis, per cui può essere un luogo molto interessante. Bello è. Da conoscere meglio? Sì, senz'altro. Allora, senza dubbio la zona di Crosis da un punto di vista geologico è estremamente interessante, favorisce diciamo gli aspetti ludico-motori, soprattutto in questo periodo di calura preestiva, anche per la presenza proprio della sua conformazione. Ci sono dei bastioni rocciosi verticali o subverticali che proprio formano quasi dei pennelli, dei repellenti, all'interno dei quali proprio scorre il Torrente Torre. L'interesse è che questi bastioni rocciosi conservano la memoria di quelle frane che si formarono in quel bacino che vediamo rappresentato circa 60 milioni di anni fa. Era il bacino Giulio, un bacino stretto di mare che era orientato nord ovec sud-est e dal quale scendevano e i fiumi portavano ovviamente il materiale che si stava disgregando dalle alpi che in quel momento si stavano alzando e ogni tanto dal bordo della foce di questi fiumi scendevano sul fondo marino proprio delle frane che proprio le possiamo adesso riguardare rivedere in sezione tagliate dall'azione erosiva proprio del Torrente Torre dove vediamo proprio tutti questi materiali i sassi i ciotoli i clasti i limi le sabbie che si sono depositati in ragione del loro peso quindi della gravità e hanno formato proprio questi questi strati che li vediamo molto bene non a caso questa zona è considerata proprio è un geosito quindi da un punto rivista proprio diciamo ufficiale riconosciuto dalla regione quindi protetto anche come tale ed è una palestra è quasi un museo all'aperto non quasi è a tutti gli effetti un museo all'aperto adoperato anche periodicamente dall'Università di Trieste che porta qua i suoi studenti proprio ad ammirare questa sequenza che è una sequenza adesso non voglio adoperare un parolo ma torbiditica proprio perché rappresenta quelle correnti di torbida quindi quelle grandi frane sottomarine che hanno costituito costruito quelle rocce che noi adesso chiamiamo flish quindi quelle che anche in friulano viene chiamata ponca o cremen eccetera assumono un sacco di nomi e in più nella zona di Crosis abbiamo proprio il passaggio tra queste rocce marroni diciamo che costituiscono tutto diciamo il collio orientale del Friuli gran parte del collio a invece ai calcari della Bernadia e il torre ha scavato proprio una sezione geologica ecco qui vediamo delle tracce di Limivori proprio lì nella zona di Crosis questi strati conservano ancora l'impronta del fondale marino con dei ripple marks cioè proprio con anche le testimonianze delle onde del mare che increspavano la sabbia di questi fondali marini ecco vedete questi strati che sono verticali verticalizzati a formare questi bastioni rocciosi in più per i bambini è poi bellissimo perché ci sono anche delle zone dove si possono addirittura raccogliere di piccoli sassolini di quarzo di selce che sono immersi ancora in queste rocce molto friabili scure marnose eccetera per cui è anche dal punto di vista come dire così giocoso molto 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 gradevole insomma come sono le acque del torre sono ancora abbastanza in quella zona lì il vero Alberto sono ancora abbastanza buone sicuramente fresche fredde ecco quello sicuramente perché sono le acque che circolano in più c'è sono anche tutte la zona delle sorgenti della Bernardia che in quella zona lì alimentano anche il subalveo del torre ma comunque lì da un punto di vista naturalistico è ancora una zona diciamo ben conservata ben conservata a proposito di natura Alberto incontri naturalistici lungo questo sentiero vediamo qui qualche piccolo esempio ma tu ci puoi raccontare allora va detto soprattutto che anche il sentiero ha più di vent'anni ed è uno dei primi sentieri tematici che abbiamo progettato proprio nella nostra regione è proprio stato fatto apposta con delle tabelle didattiche per le famiglie quindi per i mancanzi della guida naturalistica c'è comunque la tabella ed è stato uno dei primi proprio faceva parte di un gruppo di cinque sentieri lì nel Tacentino la natura lungo il sentiero che si può incontrare è bellissima qui abbiamo una farfalla la Parnassius Apollo che vive in queste rocce del Monte Stella su questi ambienti molto rupestri molto molto caldi con una flora eccezionale piante veramente rare come il cerastro qui dell'Isonzo e ci sono piante endemiche uniche cioè veramente è un concentrato il sentiero delle cascate di Crosis di interesse e adesso che sta per essere ripristinato risistemato dal comune con la dita che gestisce la cascana e l'ufficio sarà quindi un piacere ripercorrerlo comunque si può tranquillamente che tempo di percorrenza ha? ma una mezz'oretta non di più è molto semplice in ogni caso la zona più facile da raggiungere è quella alla base delle cascate che si raggiunge sia da Ciseris che da Zomeais ed è veramente interessante passare le pomeriggi in questo ambito naturalistico molto molto particolare tanto caldo ti viene da buttarti l'acqua la Iarin di Crosis è noto ormai ai Tarcentini da molto tempo è un'aria secolarmente buona ci arriva giù di sera noi a Tarcento e si fa e mitiga anche stagioni come la mitica è stata del 2003 mi ricordo che mi raccontavano esattamente allora per concludere questo nostro incontro io chiederei ai nostri due ospiti qualche indicazione sulle attività più imminenti insomma prossime cosa ci raccontate vai tu vado io allora parliamo beh adesso abbiamo nell'imminente abbiamo il 23 di giugno la classica serata delle erbe magiche di San Giovanni l'incontro con le erbe con il sostizio estivo con l'accensione del tradizionale falò sostiziale a sei mesi esatti da quello che accendiamo il 23 dicembre sempre sui monti delle valli del torre e poi il 24 giugno abbiamo una presentazione di un libro in cammino una cosa che facciamo di solito noi e saremo con Elisa Cozzarini che ci presenta il libro Radici liquide dedicato appunto ai torrenti montani alla rapina delle acque dagli impianti idroelettrici nella zona diciamo alpina e poi per dirti questa domenica siamo sul Pramolo a cercare fossili a vedere fossili qui come appunto all'esperto interessante direi ecco allora io prima di salutarvi vi ricordo anche che domenica 17 ci sono due escursioni interessanti organizzate dalla stazione di soccorso alpino di Udine Germona e Friuli in collaborazione con quella di Mojo Udinese Pontebba e presso la Malga Quarnan il ritrovo 8 e mezza perché sono escursioni sul tema della sicurezza che coinvolgono anche i bambini quindi insomma direi un appuntamento anche questo interessante però grazie ad Alberto Candolini e a Massimo Valent per essere stati con noi allora tanti auguri di buon compleanno a scoprire grazie cercateci su scoprire camminando.it o su facebook e ci troverete e vi troveremo a voi un saluto un buon fine settimana col meteo ci vediamo lunedì mattina presto e come te weekend venerdì prossimo arrivederci questo programma vi è stato offerto da Compartigianato Udine Servizi SRL